Ciao, sono Irma Svegler, titolare di Old Fashion Settoria. Un nostro cliente ha chiesto un pantalone del colore bordeaux in velluto. La nostra proposta era di abbinare un gilet con dei revers a sei bottoni con delle taschine in un bellissimo airy suite nelle tonalità bordeaux, lila e fucsia. Il dietro sarà fatto in doppia fodera, sempre sul bordeaux, con le tonalità leggermente viola. Tutto sarà impunturato con la seta, avrà sei bottoni, avrà un cinturino per regolare la vita che viene chiuso con una fibia color canna di fucile. Trovi tutte le informazioni nella descrizione qui sotto. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. A presto!